Sabato mattina è stata presentata l'associazione CL Tutta la Vita, presieduta da Antonio Montagnino, ex senatore e segretario della CISL di Caltanissetta. Nello stesso contesto è stata ufficializzata la candidatura a sindaco di Annalisa Petitto. Alla presentazione hanno preso parte molte persone, i rappresentanti di alcune associazioni presenti in città e altri membri di diversa formazione politica. L'associazione si dichiara aperta al dialogo con quei partiti che accettano i valori fondanti. Spazio a tutti coloro che si danno da fare per le sorti della città, con grande slancio e determinazione, come i rappresentanti di altre associazioni, gli appartenenti ad ordini professionali, esponenti del terzo settore e i singoli cittadini che condividono gli obiettivi del nuovo progetto. Da oggi c'è un nuovo soggetto politico in città, è un'associazione che non ha appartenenze partitiche, ma che certamente è politica. È un'associazione che si presenta alla città in maniera schietta, in maniera trasparente, in maniera leale, con un programma tutto da costruire insieme alla città, ai cittadini, tutti i comparti e i settori della città. Tutti i cittadini possono partecipare, non c'è nessun tipo di preclusione. Nei prossimi giorni apriremo una pagina social in cui coloro i quali vorranno iscriversi nel vero senso della parola potranno farlo, pubblicizzeremo tutte le attività che avvieremo da questo momento in poi e liberamente si potrà partecipare a tutti quegli incontri che saranno pubblici, saranno tra la gente, per la gente, in mezzo alle strade. È il minimo che possiamo garantire a questa città la totale trasparenza, non solo nelle persone, ma soprattutto nei metodi.